Ciao Astronomers! Quando abbiamo iniziato il sviluppo di software Play, avevamo in mente una task specifica, vogliamo essere facile da usare e differente da qualsiasi altro software di astrofotografia. Questo è quello che ha guidato il nostro team di sviluppo e oggi sono felice di presentare la nuova software Play Astrofotografia versione 1.8. Siamo scopriamo l'update! Automazioni possono essere un fattore clave in astrofotografia e questo è il motivo per questo riluppo vogliamo aggiungere funzioni che aiutano a spendere meno tempo preparando le vostre acquisizioni e più tempo capire le immagini. Con la versione precedente 1.7 abbiamo aggiunto l'alignamento di auto per facilmente e precisamente allinei il tuo posto telescopio al cielo. Oggi Play versione 1.8 aggiunge anche autofocus e autostacking. La nuova feature autofocus ti permette di automaticamente concentrare le immagini e raggiungere le immagini che puoi ottenere dal tuo telescopio. Play inizia a rinunciare il focuser del telescopio e capisce un'immagine a ogni passo per analizzare la gravità delle stelle. Come il focuser si muove, la major sharpness rischia il suo punto, e poi inizia a rinunciare a rinunciare ancora, come il focuser si muove pasto l'opinimale punto di focus. Nel grafico plotato, questo crea un V-curve e il punto di vista del V indica la posizione di l'optimale focus. Questo è come Play è potuto automaticamente trovare la migliore posizione di focus. E non parliamo qui. Autostacking ti permette di aumentare l'immagine di qualità di immagini automaticamente per combinare molti immagini del stesso obiettivo. Ogni immagini è automaticamente alineato con il precedente. Poi inizia per aumentare la visibilità del obiettivo e ridurre il ruolo. Play è potuto automaticamente staccare durante una acquistazione di sequenza, quando Play risponde il tuo file single-fit, che puoi usare per il processo di processamento. Ma anche avrai una foto pre-processed del obiettivo capturato. E queste nuove funzioni funzionano insieme con l'immagine capturata, che offre un controllo migliorato sul Instagram di immagini e anche nuove controlli di calibrazione per le camere colori. E tutte queste nuove funzioni rendono a Play un grande scopo non solo per controllare i dispositivi Prima Luce Lab come Sesto Senso, Esatto, Arco, Giotto e Alto. Ora puoi usare Play anche per controllare il tuo telescopio completo, anche le nostre stazioni di osservatori con il Dome, e capire le foto di astrofotografia in modo facile. In order to help you, we also greatly improved the user manual by transforming it into a real book with many suggestions to start your exploration of the universe with your preferred telescope, camera and mount. You can find the manual inside of Play, or you can preview and download PDF version for free from our website. For more content that will help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and clear skies! And clear skies! And clear skies! Alt watched a new video on the platform Everyone shares once more! www.aptopstzai.com